Siamo con il vice allenatore dei Rangers Corigliano, Giuseppe Filocamo. Oggi Rangers Corigliano battono il San Demetrese per 2-0, serviva una prova convincente, così come abbiamo chiesto anche al Presidente Onorario, è arrivata una prova convincente e una vittoria importantissima in chiave play-off. Ciao Cristian, oggi abbiamo disputato una bella partita, sia noi che anche l'altra squadra. Devo dire che il primo tempo ci ha messo un po' in difficoltà anche. Mentre nel secondo tempo è uscita fuori la nostra qualità, che non ci possiamo nascondere, è superiore a molte squadre. Oggi la squadra è scesa con un 4-4-2 in fase difensiva, in fase offensiva ci sembrava quasi un 4-3-1-2, un modulo a quanto anomalo in queste categorie. Bianchi sicuramente dietro le punte ha fatto la differenza, ma ottimi anche sposato e vasso. Sì, c'è stato il sacrificio da parte di tutti, infatti questa squadra, come ti dicevo prima, tecnicamente è brava, ma se non c'è il sacrificio da parte di tutti questi interpreti, sia Bianchi che Stefano che lo stesso vasso, hanno dato una grossa mano, quindi hanno permesso agli altri di disputare una bella partita. Settimana scorsa è arrivata una sconfitta contro il Cropalati, la Mendolaro non perde colpi, 11 partite e 11 vittorie, il campionato d'andata è campione di inverno già da qualche turno, puoi dirci una tua riflessione su quello che è questo campionato di seconda categoria? Guarda, sicuramente il livello è molto alto, perché qua si può parlare anche di una buona prima categoria come livello. Lamento l'ora, bisogna fare i complimenti perché stanno tenendo... Noi siamo là, siamo là, però loro non perdono un colpo. È una bella squadra, è stata costruita bene sin dall'inizio. Noi abbiamo avuto qualche problemino o qualcosa, però siamo là, non molliamo. Grazie in bocca al lupo.